buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti benvenuti prendiamo qualche minuto per iniziare questo questo webinar al quale vi ringraziamo per essere per esservi iscritti il webinar rientra tra le iniziative che vengono realizzate nell'ambito della open go week l'iniziativa internazionale che ha l'obiettivo in una settimana di promuovere eventi incontri modalità momenti di scambio sui temi del del governo aperto ci sono stati già degli altri degli altri eventi organizzati dalla dal progetto di cui ci occupiamo che il progetto open gov metodi e strumenti per l'amministrazione aperta altri eventi sono previsti nei prossimi giorni quindi se qualcuno dovesse aver perso il webinar di stamattina e di ieri l'introduttivo propri temi della della settimana della settimana dell'amministrazione aperta potete recuperarli perché sono disponibili le registrazioni e i materiali sulla pagina di di eventi pia il sito nel quale vi siete iscritti per partecipare a questo webinar e anche la registrazione di questo di questo evento i materiali saranno disponibili sulla sulla stessa pagina a partire presumo da domani e quindi noi fra poco inizieremo perché come avrete visto dalla dal programma è molto è molto intenso e quindi cerchiamo di di avere tempo di dare spazio a tutti gli interventi e eventualmente anche alle vostre riflessioni eventuali domande richieste di richiedimenti che possono che potete porre nella sezione domande e risposte che è accessibile nella parte bassa del dello schermo della del video della piattaforma della piattaforma zoom io sono sabrino nano e performance appunto vi do il benvenuto a questa attività l'attività è organizzata nel dal gruppo di lavoro che gestisce l'area di lavoro tecnologie digitali per la partecipazione pubblica e sono tutti i colleghi che interverranno dopo di me e poi uno spazio di approfondimento invece eh mi hanno fatto grazie alla collaborazione delle dei colleghi delle amministrazioni eh che hanno adottato la la piattaforma desidim che è l'oggetto di questo ehm di questo di questo in questo incontro il nostro obiettivo è ehm analizzare analizzare insieme anche le amministrazioni che hanno adottato la piattaforma desidim per il loro per la realizzazione di processi partecipativi analizzare come la piattaforma risponde ai ai requisiti alle raccomandazioni della raccomandazione della della commissione europea per il coinvolgimento e la partecipazione ehm dei cittadini e dell'organizzazione alla definizione delle delle politiche pubbliche quindi io vi farò un breve intervento di di inquadramento dell'attività che ci ha portato eh alla realizzazione di questo di questo evento e e quei colleghi scenderanno nel dettaglio dei dei temi e degli approfondimenti per individuare queste connessioni e eh questo vuole essere un punto di di partenza per raccogliere anche eh altri suggerimenti appunto altri punti di di riflessione altre modalità con cui questi principi vengono ehm vengono recepiti nelle diverse esperienze delle amministrazioni quindi come avete visto dal programma eh abbiamo cercato di coinvolgere amministrazioni che in parte qualcuno ha già fatto delle delle una parte del percorso con noi abbiamo i diversi livelli di di amministrazione insomma ci serve come come spunto ci serve ci ci piacerebbe appunto estendere poi questi eh questi ragionamenti anche con le attività che faremo eh successivamente. L'area eh l'area di lavoro eh tecnologie per la partecipazione pubblica è una delle tecnologie digitali per la partecipazione pubblica è una delle aree di lavoro che costituiscono eh lab della partecipazione. Il lab della partecipazione è stato realizzato nell'ambito della del quinto piano d'azione del governo aperto ed è una delle delle iniziative proprio realizzate all'interno di di quell'ambito e ehm è uno spazio di uno spazio di lavoro, un ambiente di di connessione, di collaborazione e di scambio di esperienze in tema di partecipazione pubblica. Eh al momento eh ci sono diverse aree eh di lavoro attive eh che utilizzano questo spazio per per condividere le proprie iniziative, per diffondere strumenti e per appunto avere uno uno spazio di eh di aggregazione e di confronto. Uno di questi è la l'area di di lavoro tecnologie. Eh l'obiettivo dell'area di lavoro tecnologie digitali eh la genesi dell'area di lavoro tecnologie digitali eh è stata prima una fase di sperimentazione nata da una un'esperienza diciamo un po' più che prototipale eh la prima eh la prima installazione, la prima configurazione dell'area di lavoro è stata fatta su un'installazione eh che si chiama Community PA eh chi di voi magari eh ha seguito anche le attività precedenti di questo progetto e ha avuto modo di di interagire con con l'area di lavoro ha ha notato che insomma ci siamo spostati da quella da quella prima localizzazione che appunto era un'installazione eh che ci è servita per sperimentare per sperimentare gli strumenti per sperimentare e costruire insieme con il primo nucleo di componenti dell'area di lavoro eh gli strumenti, la configurazione ma anche la modalità di lavoro che poi abbiamo portato avanti e che eh a partire dal gennaio duemilaventiquattro invece si svolge ehm fisicamente all'interno dello spazio del lab partecipazione che eh è stato realizzato all'interno della piattaforma partecipa, partecipa alla piattaforma di partecipazione del dipartimento della funzione pubblica che è realizzata con la piattaforma con la piattaforma desidim. Eh quindi all'interno di 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 questa di questa area di lavoro eh che è dedicata proprio alla alla sperimentazione del degli strumenti digitali a supporto della e dei processi partecipativi ehm se se vi affattate ehm e se siete incuriositi ovviamente potete iscrivervi a partecipare ehm trovate i materiali che sono stati che sono stati realizzati eh le attività eh di di informazione di collaborazione che sono state realizzate e anche quelle che contiamo eh di realizzare nei nei prossimi mesi. Ehm l'obiettivo di questa di questa area di lavoro che appunto ha un taglio diciamo più orientato sulla tecnologia rispetto alle altre aree di lavoro che costituiscono non la partecipazione eh è quello di di sperimentare eh diciamo mettere mettere in discussione mettere a confronto delle delle soluzioni per poi con processi di aggiustamenti eh successivi individuare di costruire delle delle guide costruire dei dei modelli che poi ehm rimettiamo a disposizione delle delle altre amministrazioni e altri soggetti che vogliono ehm realizzare percorsi percorsi analoghi. eh questo l'attività dell'area tecnologie è iniziata a gennaio del duemila ventitré tra progettazione e costruzione del costruzione del gruppo e costruzione dell'ambiente e delle e delle funzionalità ma alle spalle le attività che sono state realizzate con il progetto con il progetto Open Gov che hanno visto il coinvolgimento di amministrazioni ehm con il supporto delle quali appunto abbiamo avuto modo di eh di sperimentare eh modelli che poi noi abbiamo riportato. eh in in questo ambiente così come ehm anche la 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 sperimentazione il trasferimento delle modalità di adozione della piattaforma Desidim le abbiamo fatto in parte eh grazie alla a supporto delle delle amministrazioni che ci hanno che hanno voluto partecipare con noi a questo a questo percorso. Il alcuni dei degli strumenti che che ritrovate nella nella piattaforma nell'area di lavoro sono appunto come dicevo le le guide le guide all'uso della piattaforma Desidim e la guida alla alla all'utica come la piattaforma Desidim può essere utilizzata per supportare le le comunità online e questo è sicuramente è stato possibile realizzarle grazie all'esperienza che abbiamo maturato negli anni nella gestione della piattaforma partecipa che è diciamo rivolta alle amministrazioni centrali eh ma poi nei percorsi di nei percorsi pilota che abbiamo realizzato con anche anche con le amministrazioni locali abbiamo potuto sperimentare diverse declinazioni dell'utilizzo di questa di questa piattaforma quindi se siete curiosi un po' di questi materiali li trovate nella questi materiali sono disponibili nella nell'area di lavoro eh ci sono tutti ehm e ci sono degli spazi degli degli ambienti di collaborazione eh e in questi spazi vengono nella sezione incontri vengono proprio proposti anche gli gli incontri gli eventi analoghi a questi o altri con un taglio più laboratoriale nel punto nel quale appunto ci fa piacere eh coinvolgervi e ampliare la rete delle 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 persone insomma che che lavorano su questi temi eh dal confronto che ci ci arricchisce tutti e quindi le l'area lab della partecipazione è uno spazio che può che che è aperto ehm nelle aree di lavoro ehm nelle anche nelle altre aree di lavoro quelle che che vi ho illustrato diverse dall'area tecnologia ehm ed è anche possibile eh attivare delle nuove aree di lavoro e su questo su questa è un'attività che gestita dipartimento direttamente dal dipartimento della funzione pubblica che il nostro committente su su questo progetto ehm ci si può invece iscrivere liberamente alle alle attività dalle alle aree di lavoro come come partecipanti nella sezione dedicata nella proprio nella partecipazione eh quindi la speriamo insomma che anche questo questo evento sia sia un modo per per accrescere il nostro il nostro gruppo di lavoro e per raccogliere quanti più più suggerimenti ehm e interventi eh e esperienze raccogliere nuove esperienze che magari ci sono sfuggite finora ma che hanno che vale la pena valorizzare eh e diffondere per tutto quello che siamo riusciti a fare adesso è stato proprio anche grazie al confronto come vi dicevo per approssimazioni successive con quello che quello che è stato fatto nelle diverse esperienze poi metterlo un po' a sistema discuterlo assieme eh e riutilizzare in quanto più possibile il il lavoro fatto. Ehm io concludo questo mio breve in intervento che era proprio eh l'obiettivo di di potenzializzare il luogo dove sono nate queste queste riflessioni e queste e queste collaborazioni e e lascio la parola a Michele che invece introduce la seconda parte delle delle attività. Ehm vi ricordiamo che appunto se avete delle delle domande del si fa piacere intervenire c'è a disposizione la sezione domande rispose dove noi risponderemo magari al termine del degli interventi o dove è possibile anche strada facendo se si tratta di domande puntuali a cui possiamo rispondere al volo. Grazie ancora a tutti per la partecipazione. Grazie Sabrina di questa introduzione. Chiedo intanto alla regia se può ricondividere la slide di apertura con il titolo del nostro webinar. Ehm come ha introdotto Sabrina il webinar proposto dalla nostra area di lavoro tecnologie digitali a supporto della partecipazione. Io sono Michele Silva come ci sono Giulia Bertone, Fedele Congedo e Gianfranco Andriola eh sempre che conforme SPIA animano e coordinano quest'area di lavoro. Il tema proposto come detto è eh la piattaforma Decidim eh nel rispondere alle sfide proposte dalla raccomandazione eh della Comunizione europea eh sulla promozione della partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche eh inquadriamo quindi il tema con eh il primo intervento di di fedele congedo che ci che ci aiuta a fare una panoramica proprio sui contenuti di questa raccomandazione la raccomandazione otto sei due sette del duemila e ventitré eh sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche eh vediamo quindi con Fedele quali sono i principi diciamo gli spunti più interessanti soprattutto nell'ottica di poter diciamo dare concretezza a questi principi attraverso le tecnologie digitali. La parola è a Fedele. Grazie, grazie Michele per questo questa introduzione e io vi vorrei proporre eh come dire questa questa esplorazione della della nostra raccomandazione attraverso una una lavagna eh dove un po' l'idea è quella di appunto di osservare da vicino la raccomandazione alla luce di tre eh chiavi di lettura emergenti che vedete qui eh già con una notazione cromatica la trasparenza e l'informazione l'inclusione e l'accessibilità l'efficacia e la contabilità che sembrano veramente come dire eh risuonare mentre si legge questa bellissima raccomandazione che vi ricordiamo è stata pubblicata il venti dicembre duemilaventitré è una raccomandazione sulla promozione e sul coinvolgimento e la partecipazione effettiva delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche. Do maggiore intonazione perché proprio questa è una connotazione fondamentale proprio la generazione delle politiche l'elaborazione e in questo senso vi farei notare da subito che nelle premesse sono variamente richiamati questi termini o come dire eh sembra proprio che tutto il sistema alle premesse poi preordinato a costruire la raccomandazione faccia emergere questo arcobaleno cromatico eh che effettivamente dal primo eh elemento di premessa a seguire parla di efficacia della eh decisione delle decisioni prese in maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini eh il tema è ovviamente quello di una forte adesione alla carta dei diritti fondamentali dell'unione e quindi eh l'imposizione all'amministrazione e l'obbligo di motivare le decisioni quindi il campo decisionale e organizzativo della proprio della come dire le politiche è fortemente richiamato e vedete anche nei successivi elementi di premessa c'è l'idea di una forte attenzione verso l'inclusione e poi accanto a questa attenzione eh che si mi spiega eh per nel desiderio di raccogliere attivamente le opinioni c'è un esplicito un richiamo all'utilità che è emergente dall'esperienza dell'uso delle nuove tecnologie che possono effettivamente favorire l'interazione fra cittadino e stato e infine all'interno delle premesse una forte relazione un'evidenza della del significato dell'importanza di processi vera e propria cocreazione eh che sono promettenti e che vedono nella centralità della trasparenza dell'informazione nell'alfabetizzazione mediatica e l'accompagna degli elementi di presupposto fondamentali ma veniamo alla parte fondamentale della raccomandazione vedete eh un eh il fulcro che guida eh la raccomandazione e la definizione dell'oggetto bene l'oggetto della raccomandazione ha due fondamentali nuclei la promozione della partecipazione dei cittadini alle delle organizzazioni della società civile all'elaborazione delle politiche e il mantenimento di un ambiente favorevole per le OSC per i processi di elaborazione questo è sostanzialmente l'oggetto quadro no? E e da qui la necessità di misure effettive che funzionano in termini a contability per questo e eh perché sia possibile eh raggiungere questa connotazione il quadro generale per la partecipazione effettiva è il punto di riferimento fondamentale occorre nella raccomandazione definire un quadro accessibile trasparente e inclusivo in modo da unire la partecipazione ai processi di elaborazione eh con un'applicazione piena della raccomandazione quindi un quadro che sia in articolo cinque vedete questi richiami no? Eh numerici sono alla esplicita posizione dei contenuti rispetto ai agli articoli quindi un quadro di partecipazione chiaro accessibile è ancora un quadro accessibile che si esplica sostanzialmente grazie al fatto che le eh informazioni siano tempestive opportune necessario ma riferite a esercizi specifici di partecipazione vedete l'accessibilità è sempre come dire un connotato fondamentale coadiuvante gli elementi così pure accanto al quadro accessibile il quadro deve essere anche trasparente il quadro trasparente in per il controllo dei processi qui viene introdotto e richiamato fortemente il tema della valutazione del monitoraggio il valutare periodicamente il quadro della partecipazione è un elemento di accountability come sappiamo e l'inclusione e l'invito a partecipare alle diverse fasi dei processi è un elemento fondamentale di inclusivo di accessibilità e dunque un quadro di partecipazione multilivello che riguarda tutti i livelli di governo dal livello statale al livello comunale questo è richiamato nelle condizioni sostanziali di della raccomandazione e poi eh una seconda parte che della raccomandazione vera e propria parla di misure specifiche per sostenere e promuovere la partecipazione ai cittadini quindi in articolo undici c'è proprio questo eh richiamare degli esercizi partecipativi guidati dai cittadini promuovendo partecipazioni individuali e collettive con metodologie solide sul fronte della eh la dell'efficacia e dunque eh in articolo quattordici si giunge all'idea fondamentale di esplorare l'uso di nuove tecnologie accessibili conformi ai diritti fondamentali e poi dunque attuare dialoghi strutturali una bellissima bellissima raccomandazione intensa che eh sostanzialmente eh si può spacchettare e qui abbiamo provato a fare un'operazione di eh di unità no? Quindi se noi andiamo a estrapolare quegli elementi e eh raccoglierli come per far funzionare come dire verificare i nostri percorsi e le nostre storie abbiamo che avviene una cosa curiosa ma sostanzialmente molto confortante che questi singoli elementi che poi sono della della trasparenza e dell'informazione dell'efficacia dell'inclusione e dell'accessibilità risuonano e si collegano vedete alla fine gli elementi fondamentali sono sempre quelli di un quadro di partecipazione trasparente con un controllo dei processi multilivello e ancora qui inclusivo per pari opportunità chiaro e accessibile ma se noi volessimo per un gioco di corrispondenza andare a riunire e collegare questi fattori noi troveremmo che eh utilizzando un gerundio cioè utilizzando come dire dei modi di fare offrendo accesso alle informazioni informando i partecipanti e così via noi vedete avremmo un cammino un po' più certo o curiosamente accordato perché molti possono essere i cammini le relazioni le corrispondenze tra questi fattori e quindi come in un gioco di possibile democrazia vedete eh informando i un quadro ecco eh di trasparenza di partecipazione e di informazione si attiene informando i partecipanti dell'esito del processo e poi andando valutando periodicamente il quadro di partecipazione e se volete invitando a partecipare alle diversi fasi dei processi di elaborazione politiche cioè sono giochi come dire di di collegamenti che ci danno anche una traccia dell'intensità della coerenza della consistenza di questa sostanziale raccomandazione che ha tanti risvolti tanti richiami quindi un una buona cosa che ci viene che potrebbe venire in mente tener conto di questi sono veramente depositi funzionanti in modo diverso ma per fare ordine sostanzialmente oggi vi vogliamo ricordare almeno degli elementi molto velocemente fondamentali trasparenza informazione parla di chiarezza di un quadro di partecipazione chiaro accessibile che possa dare opportunità concrete parla di partecipazione informata i formati facilmente accessibili di un esercizio specifico di partecipazione e parla di accesso il più ampio possibile che deve come dire è un invito fatto agli stati membri è un invito che viene completato da un invito alla sensibilizzazione alle opportunità di partecipazione a tutte le scale quindi l'efficacia e la contabilità ugualmente richiamano la partecipazione in tempi utili e in tutte le fasi una partecipazione sin dal primo momento che dà la possibilità di partecipare alle diverse fasi è la necessità di rendere conto dare conto dell'esito del processo e del seguito dato all'esercizio partecipativo infine l'efficacia e la contabilità devono essere connesse a un rafforzamento delle competenze della partecipazione il terzo pilastro è l'inclusione il rispetto le pare opportunità di partecipazione e anche qui ricostituito fra rimozione degli ostacoli approccio inclusivo e infine un'attenzione particolare ai giovani aumentare la partecipazione alla vita democratica e dei giovani e dunque oggi esploriamo appunto queste nostre esperienze attraverso questi filtri chiarezza partecipazione innovazione e sensibilizzazione rispetto alla piattaforma l'efficacia e la contabilità attraverso partecipazione in tempi utili il rendere conto e il rafforzamento delle competenze rispetto pari opportunità e rapporto di apertura di attenzione per i giovani per l'inclusione e l'accessibilità grazie fedele direi un inquadramento perfetto che ci consente di individuare quali sono gli elementi di attenzione appunto più interessanti anche proprio per l'applicazione e l'implementazione di questi principi attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali all'interno dei nostri percorsi partecipativi in ambito pubblico ma non solo. Andiamo più a fondo con il discorso e lasciamo la parola a Giulia Bertone che ci parla, che appunto affronta un po' il nocciolo del discorso di oggi parlando del software di SIDIM e ponendo attenzione in particolare a tutti quegli aspetti nella filosofia di progettazione e nelle funzionalità del software diciamo che rendono concrete tutte le tutti gli spunti offerti dalla raccomandazione che possiamo dire danno che permettono di implementare proprio le proposte avanzate dalla raccomandazione. Prego Giulia. Grazie. Grazie Michele e buongiorno a tutte e a tutti anche anche da parte mia. Vado anch'io in condivisione se ce la faccio. Ok. Ditemi se datemi un feedback a posto giusto vedete. Si vede Giulia prego. Perfetto. Allora dunque come abbiamo già visto e condiviso l'incontro di oggi è dedicato alla piattaforma di SIDIM. Ci siamo posti un po' l'obiettivo come area di lavoro di indagare come alcune pubbliche amministrazioni in Italia la stanno utilizzando anche con l'idea di capire se effettivamente può essere un'opportunità utile, uno strumento utile per andare incontro alle sfide che questa raccomandazione che Fedele ci ha raccontato in modo così suggestivo e preciso ci pone. E quindi andiamo un pochino più nel dettaglio di che cos'è questa piattaforma perché molti dei partecipanti oggi forse la conoscono perché appunto o l'hanno utilizzata o hanno imparato a conoscerla durante gli incontri anche dell'area di lavoro del lab però magari altri non la conoscono e quindi diciamolo per tutti. SIDIM è una piattaforma software, è una piattaforma che serve per costruire degli ambienti digitali, dei siti web finalizzati a supportare le pubbliche amministrazioni nel coinvolgimento dei cittadini per la definizione di politiche pubbliche, cioè supporta processi di partecipazione pubblica. È una piattaforma totalmente open source, sta su Github si può scaricare ed è sviluppata e mantenuta da una intensa diciamo così vivace comunità di sviluppatori che ogni giorno appunto contribuisce a portare avanti questo progetto. In realtà questa comunità è fatta non solo di sviluppatori software, quindi di informatici, di tecnici, ma anche di utilizzatori, anche di realtà, organizzazioni, pubbliche amministrazioni che la utilizzano e si è costituita proprio anche un'associazione che riunisce questi rappresentanti, queste persone che hanno a cuore il tema dell'utilizzo digitale per la partecipazione pubblica. Quindi perché il focus sulla piattaforma desidim? Perché questo interesse? Un po' perché è anche una piattaforma molto diffusa, no? Che si sta diffondendo a partire dall'utilizzo che ne ha fatto il comune di Barcellona, che è stato tra i primi sviluppatori di questo software. A partire appunto dall'esperienza spagnola si sta diffondendo poi tutto il mondo. Abbiamo contato più di 30 paesi in cui 30 stati, 30 realtà nazionali a livello internazionale in cui è utilizzata, con più di 450 installazioni. Quindi diciamo così che è una piattaforma che anche dal punto di vista dell'uso ha una sua rilevanza di numeri. E poi anche perché come area di lavoro insomma condividiamo un po' l'idea che sia uno strumento efficace per poter costruire degli spazi pubblici digitali di qualità. Allora quando utilizzo il tema di spazi pubblici digitali di qualità non lo utilizzo a caso ma lo utilizzo riferendomi proprio a un passaggio della raccomandazione che ci ha illustrato prima Fedele, no? E che proprio fa riferimento all'invito agli stati membri di esplorare l'uso delle nuove tecnologie per migliorare l'esercizio dei diritti di partecipazione e dei processi deliberativi anche nello spazio pubblico digitale. E quindi io penso che dobbiamo interrogarci su che tipo di spazio pubblico digitale vogliamo costruire. E penso che per costruire degli spazi pubblici digitali che siano di qualità e che quindi vadano in coerenza, rispondano alle sfide anche, no? E a quei principi che sono così bene contenuti nella raccomandazione, sia necessario utilizzare degli strumenti digitali, dei software che vadano, che facciano attenzione a questi principi. e penso appunto che lo spazio digitale può essere declinato in tanti strumenti, ma per costruire degli spazi pubblici digitali di qualità forse è necessario utilizzare strumenti adeguati, no? Strumenti disegnati appositamente per costruire processi online, processi di partecipazione negli spazi digitali, quindi software pensati con uno certo approccio. Ecco, Decidim è un software, una piattaforma software che mette a disposizione componenti, strumenti, funzionalità appositamente disegnati per la partecipazione pubblica e appositamente disegnati anche con un certo approccio da una comunità che è a cuore proprio la qualità della partecipazione pubblica e dei processi democratici. e per farvi, per darvi un'idea di quello che intendo, io invito tutti, adesso se magari qualcuno mi chiede, magari mi aiuti, lo condividi in chat, vi invito a leggere e a consultare il Decidim come social contract, cioè la carta, diciamo così, il contratto, che chiamiamolo con un nome meno importante, chiamiamolo come carta degli impegni e dei principi che le persone che usano, che sviluppano e che in qualche modo partecipano alla comunità di Decidim sono invitati a rispettare. è proprio una carta degli impegni che focalizza alcuni principi che, come vedete qua, risuonano, nel senso che per chi si occupa di partecipazione non sono principi nuovi, li abbiamo ritrovati ad esempio nella linea guida sulla consultazione pubblica, li ritroviamo adesso in modo così chiaro e esplicito nella raccomandazione. Quindi si parla dell'importanza del software libero e dei contenuti aperti, nel social contract si parla di trasparenza, di tracciabilità e di integrità dei contenuti nei processi partecipativi, si parla di pare opportunità e di indicatori per la qualità, si parla di privacy, si parla di accountability e di responsabilità. Ora adesso noi qua purtroppo non abbiamo il tempo per leggerci il social contract, però ci tenevo a farvi vedere anche questa tavola, diciamo così, questa slide, proprio per farvi capire quanto va in profondità la riflessione che la community di Decidim ha fatto su questi aspetti. Abbiamo fatto come area di lavoro anche questo gioco di mettere in dialogo questo social contract con la raccomandazione e provare a mettere delle etichette. Qui possiamo ricondurre quello che si dice al tema della trasparenza, qui al tema dell'inclusione e dell'accessibilità, questo tema dell'accountability sulla necessità di rendere conto dei risultati per chi utilizza la piattaforma. Ecco, quindi il prossimo appuntamento forse dell'area di lavoro sarà scandagliare meglio questo contratto sociale, questa carta degli impegni che chi utilizza Decidim potrebbe impegnarsi in qualche modo a seguire. Però appunto quello che volevo condividere con voi era la testimonianza di un impegno, di un impegno della comunità a realizzare processi con questo software che vadano in questa direzione. E questo non è una cosa così comune che un software sia accompagnato da una carta degli impegni che ponga anche attenzione a questi aspetti, non è una cosa per niente comune. Dunque, adesso prima di lasciare la voce ai testimoni che abbiamo invitato oggi per sentire direttamente da loro come l'utilizzo della piattaforma Decidim li sta aiutando a dare corpo e a realizzare concretamente questi impegni, vi volevo lasciare con una panoramica solo di questioni aperte, di stimoli anche che abbiamo fornito ai nostri testimoni delle pubbliche amministrazioni che ora parleranno e che riguardano proprio il tema di come la piattaforma Decidim li sta aiutando a rispondere alle sfide che abbiamo visto prima. Ad esempio sul tema della trasparenza e dell'informazione la piattaforma è un pochino, diciamo così, il tema più consolidato, l'area di uso più consolidata e vogliamo capire anche da loro come li sta aiutando a realizzare processi più trasparenti e ad avere, a dare, a condividere informazioni anche di qualità con i partecipanti nell'ottica di fornire quella chiarezza del quadro e degli impegni che si prendono all'interno di un processo di partecipazione tra amministrazione pubblica e cittadini, nell'ottica anche di poter condividere tutte le informazioni utili che servono per poter partecipare in modo qualificato e informato ai percorsi di partecipazione pubblica, nell'ottica anche magari di poter rendere disponibili dati e contenuti aperti che possano essere scaricati e accessibili e utilizzati anche per vedere, diceva prima, la valutazione ma anche semplicemente per avere a disposizione i dataset sulla partecipazione utili anche a delle riflessioni future. Questo un po', diciamo, le questioni aperte, le questioni ma ce ne possono essere altre e adesso magari le vedremo insieme. Sul tema dell'efficacia e dell'accountability e quindi tutto il contesto che ha a che vedere con i risultati dei processi di partecipazione, quindi la capacità di raggiungere risultati concreti e rendi contabili. Forse le piattaforme, in particolare questa, può essere d'aiuto alle amministrazioni pubbliche sia nel fare un'operazione di importante accountability che riguarda il monitoraggio degli impatti. Io faccio un percorso di partecipazione, raggiungo degli esiti ma ti dico anche che cosa faccio dopo aver tenuto in considerazione quello che è stato l'esito di un percorso di partecipazione. Quindi come la piattaforma aiuta ad andare in quella direzione. Come la piattaforma forse aiuta anche a rendere i processi efficaci perché riesce a raccordare le diverse fasi in cui avviene il coinvolgimento dei cittadini. Nella raccomandazione si parla della necessità di coinvolgere i cittadini nelle diverse fasi di un processo di definizione della politica pubblica. E allora forse magari la piattaforma può aiutare questo raccordo nel raccontare le diverse fasi di coinvolgimento dei cittadini come avvengono e cosa si può fare in ciascuna di esse. Questa è un'altra ipotesi. Sul tema spinoso e l'anticipo forse dell'inclusione e dell'accessibilità chiediamo ai nostri testimoni di raccontarci quello che stanno facendo perché appunto quando si parla di partecipazione digitale negli spazi digitali si evidenza subito il problema del divide, del digital divide di quelle persone che magari non hanno le competenze, non hanno lo speed, non hanno... ecco allora qua c'è poi tutto il tema da esplorare di come ci si sta comportando per in questi spazi digitali costruiti con DesiDim offrire pare opportunità di partecipazione a tutte le persone, cercare di colmare questi divide che possono anche essere fisici, no? Cioè si parla di digital divide ma c'è anche il physical divide come tante volte si è ripetuto di persone che magari fisicamente non possono partecipare a un incontro, a un'iniziativa partecipativa e allora magari online hanno la possibilità invece di dare comunque il proprio contributo. E poi c'è il grande tema di garantire l'accessibilità di questi strumenti e questa è una sfida aperta che sappiamo essere sul tavolo e che siamo curiosi anche di capire come stanno affrontando i nostri testimoni. Quindi io vi ringrazio, spero dato alcuni punti per orientarci nel ragionamento insieme alla raccomandazione che Fedele ci ha mostrato prima e ora appunto la parola. Grazie, grazie Giulia, grazie per questo inquadramento perché ci consente proprio di spiegare perché poi la parte successiva dove abbiamo cinque testimoni chiave che ci raccontano cinque esperienze molto interessanti di utilizzo di DesiDim a livello nazionale e abbiamo un po' grazie al tuo intervento capito perché questo DesiDim è così diffuso, già da alcuni anni si sta diffondendo come software diciamo di riferimento a livello mondiale, europeo e italiano per le attività di partecipazione online. Diciamo che contiene al suo interno nella progettazione, nelle funzionalità, una serie di attenzioni che in qualche modo vanno nella direzione che poi è stata giustamente tracciata anche dall'Unione, sta venendo tracciata dall'Unione Europea. Per continuare il ragionamento abbiamo appunto pensato in questa seconda parte di coinvolgere cinque testimoni diciamo chiave per il nostro paese a livello di utilizzo delle piattaforme digitali, cinque esperienze che ricalcano poi i diversi livelli di governo. Abbiamo pensato di selezionare così i testimoni che stiamo per introdurre, quindi avremo l'utilizzo della piattaforma DesiDim a livello di governo centrale, a livello di una regione, a livello di una città metropolitana, a livello di una città grande, possiamo dire a livello di una città più piccolina. L'invito che abbiamo fatto per gli interventi che stiamo per sentire è quello proprio di stimolare il racconto attraverso i principi di cui abbiamo appena parlato con Fedele e Giulia e quindi la domanda stimolo che abbiamo voluto fare è stato come la piattaforma DesiDim ti sta aiutando nel perseguire con l'attività del tuo ente sul tuo territorio i seguenti principi. Non perdo altro tempo e lascio la parola a Gianfranco Aldriola che da diversi anni, cioè dalla nascita di partecipa alla piattaforma DesiDim del Dipartimento della Funzione Pubblica cura proprio la gestione della piattaforma. Prego Gianfranco. Grazie Michele, grazie a tutti. Io gioco in casa oggi, nel senso che sono da quest'altra parte, sono un collega, lavoriamo per la sostanza di lavorare ogni giorno insieme con i relatori che avete avuto punto di conoscere finora. Di mestiere rispetto alle cose in cui si parla oggi, il lavoro soprattutto sulla piattaforma partecipa, che vi vado a presentare molto rapidamente, una piattaforma lanciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica di riforme istituzionali nel 2018-19 più o meno e da allora è la piattaforma del governo italiano dedicata ai processi di costruzione pubblica, non c'è bisogno di dirvi che si basa sul software DesiDim, su un adottamento del software DesiDim. Di base funziona così, è un'esperienza abbastanza peculiare soprattutto per questa ragione qui, nel senso che partecipa, è un'installazione di DesiDim che ospita percorsi partecipativi promossi da diverse amministrazioni. Le altre esperienze che avrete avuto, che avrete il modo di vedere oggi, credo la nostra grande maggioranza delle esperienze di DesiDim come piattaforma principale per promuovere processi partecipativi, sono un capo, un'amministrazione che li promuove tutti i processi che afferiscono ancora l'amministrazione. Partecipa è molto diverso da questo punto di vista, nel senso che una pubblica amministrazione centrale vuole promuovere un progresso partecipativo, avvia un percorso di partecipazione sulla piattaforma Partecipa e partecipanti declinati in vario genere, cioè cittadini, associazioni, altre amministrazioni, professionisti, ricercatori, mondo università, possono contribuire ai percorsi partecipativi attraverso i loro contributi. Quindi noi come presidio della piattaforma Partecipa sostanzialmente facciamo queste tre cose qui stringendo moltissimo le attività che portiamo avanti su ogni singolo processo partecipativo, cioè coprogettiamo a quattro mani insieme all'amministrazione che promuove il processo, come farlo funzionare, quali devono essere i tempi, quali sono gli strumenti tra i vari strumenti che DesiDi mette a disposizione, quali sarebbe più opportuno utilizzare, proviamo a fare delle bozze, insomma in qualche modo proviamo a ricondurre un'esigenza di partecipazione di un'amministrazione centrale a un processo partecipativo vero e proprio che sfrutti e utilizzi tutte le potenzialità della piattaforma. Nel momento in cui il processo partecipativo parte noi presidiamo quella consultazione, cioè facciamo in modo che tutto funzioni e alla fine aiutiamo l'amministrazione che ha promosso il processo partecipativo a tirare le somme fondamentalmente. Queste somme si sostanziano in un documento che si chiama report conclusivo, report finale che nelle logiche che dicevamo prima dà trasparenza, accountability e fa prendere una posizione all'amministrazione rispetto a quelle che sono le istanze che sono venute fuori dal processo partecipativo. Ho vinto due numeri molto rapidamente, finora dal 2019 ad oggi abbiamo 34.000 iscritti, cioè 34.000 persone che hanno fatto accesso sulla piattaforma per partecipare almeno a una consultazione, 46 processi partecipativi promossi da quasi tutte le pubbliche amministrazioni centrali e 4.000 contributi dove per contributi va inteso in senso lato, nel senso possono essere proposte, questionari, commenti a proposte, 4.000 interazioni, quindi è un'esperienza significativa da questo punto di vista di utilizzo della piattaforma desidi ma anche rispetto ai numeri. Guardando il prezioso lavoro che mi ha fatto fedele gli altri colleghi di sistematizzazione della comunicazione dell'Unione Europea, io ho provato a soffermarmi soprattutto sulla prima parte, su trasparenza e informazione e rilancio più o meno quello che diceva Giulia un attimo fa, provando a capire come la nostra esperienza di utilizzo di Desidim in maniera così peculiare come dicevo prima, cioè per una piattaforma che ospita processi partecipativi di appena in situazioni centrali diverse, si presta bene adesso a rilanciare tutti i temi e le indicazioni contenute in quella comunicazione. Parto dalla chiarezza che è stata discussa prima e da questo punto di vista Desidim guida la progettazione del processo partecipativo anche in chiave di chiarezza, nel senso che dà la possibilità ad ogni processo partecipativo attivato di impostare in maniera omogenea tra i vari processi partecipativi alcuni elementi che aiutano anche l'utente a orientarsi, ad esempio il titolo, il sottotitolo, il box con le fasi, l'home page, in particolare noi per l'home page come regola redazionale che ci siamo dati su partecipa nell'utilizzo di Desidim la componiamo in un modo abbastanza standard, cioè nel senso di solito c'è un primo capoverso introduttivo, un perché partecipare, chi può partecipare sono le classiche domande che presupponiamo si porrebbe un utente al momento in cui arriva sulle piattaforme. Ugualmente Desidim dà per ogni processo partecipativo una serie di metadati, che è quella colonna che vedete sulle destre della pagina, che anche qui aiutano in maniera molto sintetica a sistematizzare il processo partecipativo, quindi da questo punto di vista spinge chi promuove un processo partecipativo alla chiarezza. Altro elemento di chiarezza è il rispetto all'articolazione sia temporale ma anche rispetto proprio quello che avviene nelle fasi imparizzate per ogni processo partecipativo e in questo caso c'è una pagina dedicata, vincolata, nel senso che deve essere compilata su qualunque processo partecipativo che in maniera molto trasparenza e molto sequenziale descrive quelle che sono le fasi di ogni processo partecipativo e quindi aiuta l'utente ad orientarsi, anche a capire cosa deve fare, a che punto è della consultazione. Rispetto alla partecipazione informata, anche qui abbiamo più elementi di desimi che possono essere richiamati e che chiaramente noi utilizziamo a lungo, da molto tempo sulle piattaforme partecipa, ad esempio da più di qualche anno a questa parte chiediamo all'amministrazione oltre di presentare il processo partecipativo in maniera sintetica nella prima pagina di accoglienza della consultazione, dedichiamo una pagina di approfondimento in cui è possibile conoscere nel dettaglio quello che è l'oggetto della consultazione, nel caso specifico vi ho messo i link in basso sulle slide a tutto quello che sto raccontando così potete andare ad approfondirlo qui avanti. In questo caso l'oggetto della consultazione è un piano molto articolato del Ministero della Cultura, il piano della digitalizzazione del patrimonio culturale e quindi abbiamo insieme al Ministero costruito a quattro mani questa pagina che anche per l'uso di infografica aiuta a capire di che cosa si tratta e quindi un utente che volesse davvero partecipare a quella consultazione ha sulla piattaforma tutti gli elementi per farlo in maniera più corretta. Allo stesso tempo, ve lo accennavo all'inizio, concludiamo ogni processo partecipativo con un report dove viene dettagliato tutto quello che è successo sia da un punto di vista numerico, quante persone hanno partecipato, come hanno fatto, in quali tempi e sia da un punto di vista di approfondimento del merito dei contributi che arrivano. Questo report genera anche, in coincidenza alla pubblicazione del report che di fatto è un PDF, associamo una pagina che si chiama Esiti ed è comune su tutte le consultazioni che si svolgono su Partecipa che approfondisce i contenuti del report e anche attraverso infografiche fatte con un software esterno da piattaforme che si chiama Infogram, diamo chiarezza, cerchiamo di essere quanto più chiari possibili a chiunque volesse approfondire come è andata la consultazione, come si è sviluppata, cosa l'amministrazione ha preso attraverso quella sollecitazione. Ugualmente, sempre a proposito di chiarezza, dedichiamo una pagina molto molto approfondita con tutte quelle che immaginiamo possano essere le FAQ di qualunque utente su quello che viene con le piattaforme, anche sulla base di esperienza lunga, considerate che, come vi dicevo, ci sono molti utenti che sono passati da Partecipa, ci hanno posto molte domande, effettivamente c'erano alcune cose che magari non sono di primo acchitto particolarmente chiare, quindi abbiamo generato e continuato a generare una serie di FAQ su questi temi. Sensibilizzazione e l'opportunità di partecipazione, anche qui ho provato a declinarla sempre rispetto a come funziona, come declineremo questo principio su Partecipa, lo dicevamo prima, Desidim è una piattaforma open source, Partecipa è una localizzazione, un adattamento, detto proprio in maniera non politese, della piattaforma Desidim, del software Desidim e una volta realizzato questo adattamento, appunto l'adattamento di Desidim aperto e che gira sulla piattaforma Partecipa, c'era una sollecitazione di Florio Marzano prima in chat, abbiamo reso disponibile la piattaforma sul portale Developers Italia, che è il portale che mette il GitHub sostanzialmente del software libero prodotto dalle pubbliche amministrazioni, quindi qualunque pubblica amministrazione può usare Desidim nella configurazione che abbiamo fatto su Partecipa. Allo stesso tempo, proprio ragionando e provando a darmi verso la conclusione dell'intervento sul fatto che la comunicazione dell'Unione Europea è assolutamente preziosa per chi fa il nostro mestiere e per chi da molto tempo prova ad accompagnare la pubblica amministrazione a realizzare processi partecipativi quanto più coerenti con i principi del governo aperto e di qualità alta. Però di fatto ci sono tutta una serie di sollecitazioni che arrivano da quella comunicazione che portiamo avanti da tempo, nel senso noi non solo, visto il nostro ruolo di amministrazione centrale che promuove processi partecipativi delle amministrazioni centrali, cerchiamo anche di promuovere il tema della partecipazione, quindi le tecnologie che sono utili alla partecipazione e anche le metodologie. In particolare su questa sezione di FAQ della piattaforma Partecipa abbiamo messo a disposizione tutti i materiali che abbiamo sviluppato per aiutare le pubbliche amministrazioni a diventarsi in un processo partecipativo, ad esempio cosa devono fare per promuovere una consultazione su partecipa, oppure cosa possono fare se non sono una pubblica amministrazione centrale e comunque vorremmo portare avanti un'iniziativa di questo tipo. Credo di essere arrivato proprio sullo scadere del tempo, grazie a tutti per qualunque cosa sono. Grazie. Complimenti Gianfranco per la puntualità dell'intervento sia in termini di contenuti che in termini di tempi. Tra l'altro ottimo, molto interessante riferimento anche a quanto è stato detto in chat sul fatto che Tessitima è un software open source e così come diciamo a livello normativo viene suggerito alla pubblica amministrazione di adottare software open source, questa piattaforma può essere appunto scaricata e riutilizzata liberamente, ovviamente magari col supporto di un tecnico però può essere utilizzata liberamente. Questo è un elemento sicuramente che avvalora la possibilità di, le opportunità di utilizzo in contesti di partecipazione. Il prossimo, la prossima testimonianza che vogliamo proporvi è quella di, della Regione Emilia-Romagna, c'è con noi Michele De Riù che dirige l'area della partecipazione della Regione Emilia-Romagna la quale già da alcuni anni ha adottato la piattaforma partecipazioni, che anch'essa adotta il software del SIDIM, sulla quale stanno avvenendo diverse interessanti sperimentazioni di processi partecipativi promossi dalla Regione, ma in questo momento anche di ospitalità, diciamo di processi partecipativi locali ospitati appunto sulla piattaforma regionale. Lascio la parola a Micaela, prego. Eccomi qua, buongiorno a tutte e a tutti. Vi chiedo se vedete correttamente il mio schermo. Vediamo, Micaela, vediamo due finestre sovrapposte come. Molto bene, allora aspetta che vediamo se riusciamo a... Esatto, forse si riesce a spostare quella sopra o... Sarebbe, eccoci qui, vediamo un po'. Giusto? Esattamente, perfetto. Ci siamo? Perfetto, grazie. Ok, grazie a voi. Intanto grazie moltissimo di questo invito perché è uno scambio molto... per noi molto importante. non soltanto perché è un'occasione di grande apprendimento, è stato molto interessante ascoltare gli interventi precedenti che hanno dato un nuovo quadro per alcuni aspetti, ma anche per portarvi in condivisione e quella che per noi è una sperimentazione. Questo ci tengo a sottolinearlo perché noi siamo giovani nell'utilizzo di Decidim come piattaforma in uso alla Regione Emilia-Romagna, perché, diciamo, dopo un percorso molto ricco che abbiamo fatto insieme a Formez di introduzione della piattaforma come nuovo strumento, tra gli altri, in dotazione della Regione Emilia-Romagna, nel quale abbiamo iniziato a prendere confidenza con tutte quelle cose anche molto complesse che, insomma, anche Giulia ci ha raccontato, tutti i suoi strumenti, le sue potenzialità, è soltanto dall'inizio del 2023 che abbiamo iniziato ad averla, diciamo, nelle nostre mani per poterla ragionare e utilizzare. Da lì abbiamo avviato una serie di prime sperimentazioni che sono in corso, quindi quello che vi farò vedere non è un qualcosa di finito, ma è qualcosa appunto in itinere sul quale benvengano e anzi grazie per tutti i contributi propositivi, critici e costruttivi che questa comunità vorrà offrirci. Rispetto ai punti che ci avete posto come stimolo alla riflessione, abbiamo provato a declinare in questi termini. Rispetto al come la stiamo usando questa piattaforma, rispetto al primo punto di trasparenza e informazione, stiamo iniziando a sperimentare la piattaforma desidim come uno sportello unico di accesso alle diverse opportunità di partecipazione riferite a diversi livelli territoriali. Cioè ovvero stiamo cercando di, stiamo immaginando di utilizzare la piattaforma per partecipare alle iniziative partecipative promosse direttamente dalla regione Emilia-Romagna, dalle iniziative partecipative promosse dall'Unione Europea e anche a quelle promosse direttamente dai territori della regione Emilia-Romagna, ma di cui hanno il pieno presidio. Provo a dettagliare meglio. Intanto vedete che manca a livello nazionale, ma direi che la presentazione di Gianfranco ci ha fatto vedere come a livello nazionale le consultazioni e le iniziative di partecipazioni siano così ben strutturate dentro la piattaforma Partecipa.pia che abbiamo ritenuto che quel livello nazionale di partecipazione possiamo promuoverlo direttamente attraverso il nostro portale, quindi il nostro sito web regionale con il quale cerchiamo di dare sempre visibilità a quel livello di partecipazione. Mentre abbiamo iniziato a progettare questa opportunità del livello europeo insieme al nostro ufficio di Bruxelles, cercando di fare un lavoro reciproco dove cerchiamo di mettere in luce quelle che sono delle percorsi di consultazione dei cittadini della comunità europea su temi di particolare rilievo per i cittadini della regione Emilia-Romagna, cercando di dare dentro alla piattaforma partecipazione anche quel percorso di come finisce quella consultazione rispetto all'attività dell'Unione Europea, cosa che per chi di voi frequenta i siti di consultazione europea e non sempre è così facile poi andare a trovare dove è finito il contributo che abbiamo dato e come si è chiuso quell'iter decisionale. Quindi rispetto all'Europa vogliamo provare a dare questo supporto e questo stimolo, agganciandoci alle nuove opportunità di partecipazione dei cittadini ai temi dell'Unione Europea che sono dati dai Cities and Panel, che sono l'ultima attività che in un qualche modo è stata promossa negli ultimi anni. Quindi questo è un po' un primo utilizzo, proprio promuovere le opportunità di partecipazione a 360 gradi. Rispetto invece al tema, anche al secondo tema dell'efficacia dell'accountability, stiamo usando la piattaforma partecipazioni per i progetti territoriali, ovvero ogni anno la regione Emilia-Romagna sostiene dei processi di partecipazione a livello territoriale, siano essi promossi dagli enti locali o promossi dalle organizzazioni della società civile e quest'anno per la prima volta abbiamo avviato, proposto una sperimentazione della piattaforma partecipazioni in accompagnamento a questi processi. hanno aderito, cioè la sperimentazione ha visto una ottima adesione perché è quasi il 75% dei processi che abbiamo finanziato, quindi quest'anno per la prima volta abbiamo 29 processi territoriali che stanno usando la piattaforma come strumento di accompagnamento ai processi partecipativi che quindi vengono svolti in una modalità ibrida con molte attività fisiche, quindi in presenza, con attività partecipative proposte sulla piattaforma. L'abbiamo fatto attraverso un patto volontario dove noi offriamo come regione non soltanto, e qui mi sembra la parte più interessante, non soltanto la messa a disposizione di questo strumento digitale, ma soprattutto facciamo un'attività di accompagnamento per formare all'utilizzo della piattaforma e dei suoi strumenti. In che modo lo facciamo? Lo facciamo sia con degli incontri proprio collettivi rispetto a tutti questi beneficiari, a questi soggetti che hanno scelto di provare a sperimentarsi con l'uso della piattaforma, facciamo degli incontri nei quali li formiamo all'utilizzo degli strumenti, ma anche con degli appuntamenti uno a uno, quindi quell'accompagnamento su misura che anche la raccomandazione ci chiede, per lavorare insieme ai territori per un uso ottimale della piattaforma in termini di contenuti che abbiamo chiamato contenuti minimi. Agenda, appuntamenti, materiali informativi, quindi trasparenza, accessibilità, render conto, ovvero costruzione di una pagina esiti sulla falsa riga di quella che anche Gianfranco ci ha proposto. Quindi dei contenuti minimi che rispondono a quegli criteri di trasparenza, accountability, render conto di questi processi. Quindi una piattaforma che viene usata, utilizziamo l'utilizzo della piattaforma, scusate il gioco di parole, per crescere competenze e crescere cultura di una partecipazione anche digitale. In ultimo, rispetto all'ultimo stimolo dell'inclusione, al netto e senza ripetere tutti i punti di attenzione che Giulia ci ricordava in termini di digital divide e quindi criteri di come favorire l'accessibilità, a queste opportunità di partecipazione, stiamo usando la piattaforma DesiDim per un nuova forma di ingaggio di quella che è la comunità di pratiche partecipative regionali. Come? Da un lato avendo aperto uno spazio assemblea dedicato proprio alla comunità di pratiche partecipative nella quale cerchiamo di portare appuntamenti, contributi e soprattutto un nuovo programma di attività che mescola, la dico così, iniziative che si svolgono sulla partecipazione ad iniziative che si svolgono fuori la piattaforma attraverso una costruzione di un percorso che possa in un qualche modo mettere in valore le diverse voci del territorio della comunità di pratiche della regione Emilia-Romagna che in un qualche modo possono trovare nella piattaforma DesiDim una casa comune di sperimentazione. Questo diciamo molto così per darvi una fotografia molto rapida di come la stiamo usando. Quindi a sintesi una piattaforma che va a supporto di percorsi che si svolgono in modalità ibrida sempre quindi in presenza e in digitale cercando di interconnettere le opportunità e le possibilità. Grazie Micaela. A voi. Grazie mille. Abbiamo visto un piccolo appunto, abbiamo visto con Gianfranco e con Micaela come se da un lato il software ci offre delle funzionalità, ci offre delle caratteristiche che naturalmente supportano l'implementazione di questi principi proposti dall'Unione Europea, dall'altro lato è quanto è importante l'impegno degli enti, delle organizzazioni che utilizzano gli strumenti proprio nell'implementare anche con i processi e con le modalità di utilizzo dello strumento questi principi. Quindi quanto è interessante sentire come due enti diversi, importanti, utilizzano la piattaforma in modo diverso con lo sforzo comune, diciamo con un utilizzo comune, un'attenzione comune al garantire che una serie di principi vengano effettivamente applicati. L'ultima cosa che volevo dire prima di dare la parola al Comune di Milano è che ricordo a tutti che c'è il bottone domande e risposte dove potete appuntare delle domande per tutti i relatori che possiamo valutare se fare sul momento o diciamo animare un piccolo dibattito alla fine. Comune di Milano, la prima città importante in Italia ad aver adottato la piattaforma Desidim con Milano Partecipa. Intervengono qui con noi Annunziata Piccariello ed Eugenio Pez che ci raccontano appunto dell'utilizzo che il Comune fa della piattaforma di Milano Partecipa con un affondo particolare sul percorso del piano aria e clima che è stato nel 2020 il primo processo importante ampio su ampia scala svolto dal Comune e possiamo dire quindi da una città importante in Italia su Desidim. A voi Annunzia ed Eugenio. Grazie e grazie per questo importante momento di confronto. Interventi interessantissimi e utili per appunto riflettere e incrementare quello che è l'uso della piattaforma e le sue potenzialità. Prima di affrontare proprio il tema della piattaforma io volevo soffermarmi un attimo su il regolamento per l'associazione dei diritti di partecipazione del Comune di Milano che è stato riformato nel 2021 ed è stato novellato proprio pensando a come le piattaforme tecnologiche potessero aiutare a rendere l'amministrazione più trasparente e chiara. Lo stesso regolamento per l'associazione dei diritti di partecipazione è stato oggetto di un processo partecipativo e quindi noi abbiamo utilizzato proprio la piattaforma Milano partecipa per pubblicare la bozza del nuovo regolamento e tenendo aperto per un mese la possibilità a tutti gli interlocutori interessati di poter prendere parte e fare delle osservazioni sul regolamento. Questo è stato molto importante perché il regolamento aveva e ha istituito accanto agli istituti di democrazia diretta già presenti di statuto nuovi istituti partecipativi e quindi la possibilità di poter dare alla città, agli interlocutori di fare delle osservazioni in merito e quindi arrivare a una coprogettazione e regolamento di partecipazione credo sia stato proprio alla base della trasparenza e della volontà dell'amministrazione di fare un percorso condiviso proprio in tema di partecipazione. Tra l'altro il regolamento ha visto questo, come dire, tra i principi del regolamento vi è proprio quello di istituire un patto di collaborazione lì dove si fanno dei processi partecipativi. Cos'è il patto di partecipazione che viene pubblicato e coprogettato, vengono stabilite sostanzialmente le regole del gioco, è l'atto amministrativo che specifica gli obiettivi, le caratteristiche, la durata del processo partecipativo e definisce gli impegni e i ruoli e le responsabilità della reciproca e dell'amministrazione e dei partecipanti. Poter pubblicare un patto di partecipativo prima di un processo partecipativo definisce una cornice di trasparenza e genera un rapporto di fiducia e incoraggia anche il cittadino a intraprendere questo tipo di percorso. Il fatto che poi sia un documento comunque consultabile sul sito anche da chi non ha partecipato è una testimonianza del tipo di percorso intrapreso e di come è stato portato avanti il processo partecipativo e di come si è ottenuto una decisione oppure si è arrivata alla stesura di un documento. Questo poi ci riporta anche, dicevo prima che il regolamento ha istituito nuovi istituti come l'istruttoria pubblica, il dibattito pubblico, anche su opere pubblico sotto la quota statale, il bilancio partecipativo. Quindi questa riforma del regolamento ha fatto un passo avanti proprio nella direzione di politiche davvero partecipative, prevedendo accanto a istituti appunto come il referendum, le petizioni, domanda risposta diretta, anche il riconoscimento di queste forme di partecipazione. Noi abbiamo utilizzato in via prioritaria la piattaforma Decidim per dar vita soprattutto alle petizioni, cioè per poter fare petizioni dirette all'amministrazione e anche l'istituto del referendum. Le petizioni ci hanno dato subito un grosso segnale rispetto alle potenzialità della tecnologia e della piattaforma Decidim. Infatti dal 2021, giugno, metà 2021, sono circa 50 le petizioni promosse e 7 hanno raggiunto le mille firme che la quota stabilita dal regolamento per ricevere un riscontro da parte degli uffici. Un altro aspetto importante, accanto appunto a quello previsto nel regolamento è anche quello dell'accountability, cioè il regolamento tra i principi è proprio quello di rendicontazione e su questo, su rendicontare, dare visibilità ai processi partecipativi, alle petizioni, alle decisioni. La piattaforma sicuramente dà la possibilità di caricare documentazioni, di caricare le fasi dei processi, di rendicontare anche rispetto alle osservazioni fatte, la possibilità di rispondere perché un'osservazione è ammessa o non ammessa, perché una petizione è ammessa e non ammessa. Quindi sicuramente la piattaforma ha dato un grosso impulso in questo senso, sia alla partecipazione sia anche alla trasparenza del processo. Per quanto riguarda invece l'inclusione l'accessibilità, anche qui il regolamento ha dato un'ampia possibilità non solo ai cittadini milanesi di partecipare ai processi, ma anche i processi sono aperti ai siti user, come anche le petizioni, tranne il referendum che invece non era possibile. I siti user vengono accreditati tramite una richiesta di iscrizione dietro alla dichiarazione di avere interessi sostanziali nella città di Milano, che possono essere di studio o di lavoro. E questo credo che sia un importante riconoscimento di inclusività perché chi vive la città, anche se non è effettivamente residente, può esprimere la propria opinione in merito a processi partecipativi. Chiarissimo questo punto, Anunzia. Colgo lo spunto su questa attenzione che il Comune di Milano ha nel coinvolgere i siti user al pari dei cittadini residenti, per forse chiedere l'intervento anche di Eugenio Pezza su un processo partecipativo specifico che il Comune ha svolto su questa piattaforma e quindi poi sulle modalità di svolgimento e di inclusione della cittadinanza. Prego, a te Eugenio. Eugenio, vediamo se... Mi sentite? Sì, adesso sì. Benissimo. Buongiorno, mi chiamo Eugenio Pezza, sono il funzionario che in precedenza, diciamo così, ha messo mano a questi nuovi strumenti partecipativi. Oggi lavoro in realtà presso l'area energia e clima del Comune di Milano perché ho voluto cogliere questa sfida interessante di utilizzare strumenti partecipativi, tra cui appunto la piattaforma, per far evolvere insieme ai cittadini un piano di notevoli ambizioni come quello appunto denominato piano aria e clima, con il quale Milano vorrebbe entro il 2015 raggiungere due traguardi fondamentali. La neutralità carbonica è una qualità dell'area decisamente migliore, almeno rientrante nei parametri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dai quali siamo purtroppo ancora e piuttosto lontani. Un paio di considerazioni appunto a cavallo tal giuridico e l'operativo, diciamo così. La qualità di uno spazio pubblico anche, come dire, impostato, costruito in modo digitale dipende evidentemente anche dal set normativo che sta alle sue spalle. Per questo e la piattaforma deve essere in grado, normalmente lo è, la nostra lo è stata, di accogliere le specifiche di questo quadro normativo. Il quadro normativo del Comune di Milano, come diceva giustamente Nunzia prima, è un quadro che, diciamo così, ha sposato la partecipazione a livello più alto, cioè mette a tema delle decisioni, ovvero sì i cittadini sono chiamati a collaborare alla definizione delle decisioni e attraverso il principio di accountability che Nunzia ha spiegato, l'amministrazione pubblica è chiamata a dire in un documento finale, diciamo in un report, quali di questi contributi accetta e incorpora nella decisione finale e quali invece rifiuta, evidentemente con motivazione. Il regolamento stesso, questo piano era clima, è stato proprio oggetto di un processo di questo tipo, ovvero sia che cosa è accaduto. Il piano era clima è stato costruito a tavolino dagli ambienti, dagli uffici tecnici del Comune di Milano, è stato poi adottato dall'aggiunta con un provvedimento formale, quindi aveva una patente chiara di autorevolezza, anche una patente corrispondente all'interesse pubblico preciso. È stato portato davanti ai cittadini in pubblica lettura, ha ricevuto delle modifiche, le modifiche sono state in parte accolte e in parte invece respinte. Dopodiché l'aggiunta ha preso il documento, lo ha ricomposto con le osservazioni ricevute e lo ha presentato al Consiglio Comunale, dove è stato a sua volta trattato nelle modalità previste con emendamenti ed altro, ma è comunque uscito un piano che alla fine aveva all'interno anche i contributi dei cittadini. È stato fuori in istituzione pubblica per 45 giorni, ha prodotto 607 osservazioni, 486 tramite la piattaforma Milano Partecipa e le restanti 121 tramite posta elettronica. Tutte hanno avuto trattazione e sono state quelle respinte con motivazione mirata. Di tutte quelle ricevute sono state accolte 252 osservazioni. Lo stesso procedimento è stato usato anche per il regolamento, come diceva prima Nunzia. Crediamo di avere in qualche modo costruito un processo prototipale per la produzione, progettazione partecipata di tutti questi grandi strumenti, siano essi regolamenti o piani strategici per un comune italiano. Da questo punto di vista la piattaforma ci ha assecondato perfettamente. Gli unici aspetti per i quali penso di poter avere delle osservazioni sono sostanzialmente questi. Da un lato porterei l'attenzione sul tema dell'accessibilità e sul tema del divario digitale perché abbiamo riscontrato sul campo che in effetti pretendere che tutti abbiano lo speed per poter accedere anche se nella sua formula meno impegnativa, quindi senza doppio conferma mediante un token sul cellulare comunque è piuttosto complesso, non è eccessivamente inclusivo. Forse sarebbe bene concepire la possibilità di entrare nella piattaforma con profili diversi, da quello più alto, diciamo così, quello verificato con lo speed, a profili senza speed, secondo la scelta dell'utente che quindi sarà messo di fronte alla responsabilità di identificarsi o meno o comunque graduare il suo ingresso, il suo approccio verso la piattaforma, verso questi processi, consentendo però comunque a tutti di poter fondere dei contributi. Evidentemente il contributo di un soggetto che si è autoqualificato da un modo più alto avrà un risalto di fronte alle opinioni pubbliche, di fronte a chi dibatte e evidentemente il contributo di un profilo meno qualificato forse avrà qualche livello di autorevolezza inferiore. Tutto questo a me sembrerebbe normale, ma sarebbe comunque importante per, come dire, un processo graduale di avvicinamento ai processi, di modalità digitali di lavoro nella partecipazione. La seconda cosa che trovo importante dal punto di vista della valorialità in qualche modo di questi processi è forse il tema delle informazioni, perché i requisiti che anche il contratto della piattaforma e la raccomandazione pongono sulle informazioni sono ovviamente del tutto condivisibili e costituiscono a mio avviso una base minima, fondamentale e indefettibile. Però penso anche che sull'informazione non occorre assicurare in qualche modo, dico questi principi già in qualche modo lo assicurano, ma credo che sia necessario enfatizzare in modo più specifico il tema del pluralismo. Il pluralismo è accreditamento, cioè informazioni in qualche modo facilmente leggibili, comunque ricche, accreditate, plurali. La pluralità è fondamentale perché è la molla che conduce all'inclusione. Se il cittadino percepisce che il pluralismo non è favorito o comunque potrebbe, diciamo così, creare problemi, non partecipa. Deve essere molto chiaro fin da subito che il pluralismo è un impegno fondamentale, un obiettivo fondamentale dei processi partecipativi e della piattaforma, quindi con opportuni strumenti, perché evidentemente il pluralismo è la ricchezza, dà la ricchezza alla discussione. Come poter permettere l'ingresso di informazioni nella piattaforma e in qualche modo guidare una forma di selezione di queste piattaforme? Secondo me è soltanto attraverso la collaborazione dei cittadini stessi. Non immagino che possa essere un'autorità interna al comune o esterna al comune, ma comunque intitolata di questa insegnita di questa funzione a dare patenti di accreditamento all'informazione. Devo rinunciare ai cittadini stessi che in qualche modo, che dobbiamo forse ancora inventarci, attribuiscono alle informazioni che la piattaforma riceve quando bisogna creare un ambiente di conoscenza per la discussione di un tema, attribuiscono a queste informazioni il livello che ritengono corretto di accreditamento, di veridicità in qualche modo, di indipendenza da punti di vista, diciamo così, precostituiti, preconcetti, pregiudiziali. Vengo ad un altro aspetto un po' più concreto e collegato al piano. Noi adesso stiamo svolgendo sulla piattaforma la rendicontazione, cioè in realtà l'informazione, l'informativa delle attività che vengono svolte dall'Assemblea Permanente dei Cittadini sul Clima. Questa Assemblea Permanente dei Cittadini sul Clima trova il suo pedistallo nella Convenzione dei Cittadini, che è uno dei 5 o 6 istituti deliberativi di cui parlava anche Nunzia. Lì trova la sua cornice giuridica fondamentale. Poi gli aspetti operativi più specifici, e la conformazione è tailor-made, diciamo, quindi del processo partecipativo è affidata, come si diceva, ad un patto di partecipazione. Anche questo ritengo che sia forse un elemento tipico del regolamento di Milano, non l'ho visto ancora altrove in altri regolamenti. Noi avevamo questa esigenza di, come dire, non imporre nemmeno nelle fasi poi applicative operative di un processo l'autorità del Comune di Milano, ma volevamo gestire anche questa fase su un piano di perfetta parità con i cittadini. L'Assemblea Permanente dei Cittadini è un'assemblea che avvicenda periodicamente 90 persone selezionate mediante una procedura statistica che insegue il miraggio, lasciatemelo dire, di un campione ragionato, non oso dire, rappresentativo della città. Beh, queste persone lavorano sui temi che sono compresi all'interno del piano dell'era-clima, ne scelgono 5 ogni anno e per un anno collaborano con l'amministrazione comunale per svilupparli e renderli concretamente applicativi. Per noi è fondamentale questa partecipazione, ancorché, come dire, un pochino distretta, perché siamo perfettamente convinti che la sfida della transizione non si può vincere senza una mobilitazione collettiva la più ampia possibile. Grazie, Eugenio. Prego, concludo solo con dicendo, a me è piaciuto avere nella piattaforma un ambiente dialogico dove poter effettuare queste discussioni anche con chi non appartiene al nucleo che lavora nell'assemblea stessa. Chiudo qui per ragione di tempo, avrei voluto lanciare altre, come dire, piccole provocazioni, ma ci sarà sicuramente modo di farlo anche in futuro. Grazie molto per l'attenzione. Grazie, Eugenio, anche perché questo tipo di software è sicuramente un laboratorio aperto, quindi tutti gli stimoli a nuovi sviluppi sono, penso, utili per tutti, per ragionare insieme. Sì, abbiamo qualche minuto di ritardo, ma proviamo a recuperare. Comunque i temi sono troppo interessanti e si fa fatica, insomma, a tagliare quando la discussione diventa calda. Ci rimettiamo in fila con il programma, città metropolitana di Cagliari, c'è con noi Fosca Vargiù che ci racconta l'esperienza di Cagliari nell'adozione della piattaforma, immagino con un percorso in particolare che è stato utilizzato nell'avvio, la parola Fosca. Esatto, non riesco a condividere, forse adesso sì. Sì, perfetto. Prova di nuovo. Sì, ci siamo. Vediamo, prego. Ok. Buongiorno a tutti, sono Fosca Vargiù, rappresento la città metropolitana di Cagliari. Oggi sono qui in sostituzione dell'ingegnere Isabella Ligia, che è responsabile del servizio pianificazione strategica e vassa e che è impegnata in un altro evento istituzionale. La nostra piattaforma Decidim è un importante strumento che ha dato un impulso vitale all'attivazione dell'azione di sistema del piano strategico metropolitano denominato appunto LabMet, Laboratorio Metropolitano di Innovazione. Faccio una breve premessa per illustrare gli step propedeutici all'adozione della piattaforma. A settembre 2021 la città metropolitana di Cagliari avvia il progetto pilota di OpenGov insieme al Dipartimento di Funzioni Pubbliche Forma SPA ed applica l'approccio dell'amministrazione aperta per l'attuazione del piano strategico metropolitano. Successivamente tra febbraio e maggio 2022 partecipiamo ad un percorso integrato costituito da seminari formativi e laboratori di coprogettazione per sperimentare ed acquisire competenze sui principi di Open Government. A novembre 2022 nasce LabMet, Laboratorio Metropolitano di Innovazione. Si tratta di un luogo digitale di partecipazione alla vita politica della città metropolitana. Contestualmente viene avviata la prima consultazione su Decidim che ha per oggetto il progetto del canale navigabile, intervento iconico dell'anello sostenibile, un'altra azione di sistema prioritario identificata nel piano strategico. Da maggio 2023, con la creazione di un'agenzia urbana, LabMet si arricchisce di un'ulteriore dimensione operativa per la condivisione e divulgazione delle tematiche urbane. Con l'obiettivo di favorire lo sviluppo e l'orientamento della spesa pubblica nell'ottica della massima inclusione, partecipazione, trasparenza e monitorabilità. Adesso entriamo nel vivo della discussione con un breve approfondimento sui tre ambiti di intervento ricavabili dalle raccomandazioni dell'Unione Europea. Allora, per quanto riguarda trasparenza e informazione, io ho individuato questi cinque punti chiave. Decidim rappresenta sicuramente un luogo digitale ideale per la diffusione di informazioni e la raccolta di feedback dei cittadini. Permette infatti di pubblicare documenti, proposte e aggiornamenti in modo accessibile e trasparente e garantisce a tutti i partecipanti l'accesso alle informazioni in tempo reale. Le sue caratteristiche facilitano una comunicazione chiara e diretta tra città metropolitane e cittadini e promuove in questo modo una maggiore comprensione reciproca. La struttura modulale di Decidim offre una guida chiara e flessibile nella costruzione degli spazi partecipativi. Gli amministratori possono configurare la piattaforma secondo le esigenze specifiche del loro contesto, aggiungendo e rimuovendo componenti a seconda del tipo di processo partecipativo che intendono implementare. Questa modularità assicura che ogni iniziativa sia strutturata in modo ottimale per facilitare la partecipazione e garantire la chiarezza delle informazioni. A titolo informativo, chiaramente, ci sono dei processi di consultazione in cui abbiamo utilizzato, ad esempio, dei questionari, altri dove abbiamo utilizzato la possibilità di inserire delle proposte e dei contributi aperti. Poi, per quanto riguarda la memoria delle consultazioni, diciamo che è un'altra delle funzionalità particolarmente utili, che ha Decidim. Ogni processo partecipativo è registrato e archiviato e crea una traccia storica di tutte le decisioni prese e dei feedback ricevuti. Questo aumenta sicuramente la trasparenza, ma consente ai cittadini di rivedere e comprendere l'evoluzione delle discussioni e delle decisioni nel tempo. Quindi, diciamo che rappresenta sicuramente una risorsa preziosa per analisi future e per migliorare i processi democratici. Decidim permette inoltre di adattare i registri di linguaggio in base al target di riferimento, rendendo la comunicazione più efficace e inclusiva. Le istituzioni possono personalizzare il tono e lo stile delle comunicazioni per rispondere meglio alle esigenze e alle caratteristiche di diversi gruppi di cittadini, facilitando una comprensione più immediata e un coinvolgimento più profondo. Infine, Decidim è uno strumento potente che non solo amplifica il desiderio di coinvolgimento dei cittadini, ma può anche innescare una partecipazione attiva nei processi di elaborazione delle politiche pubbliche da parte di altre amministrazioni. Le dimostrazioni del fatto che dall'avvio della piattaforma sono state pubblicate otto consultazioni, di cui tre ad opera dei comuni che ci compongono. Nel nostro caso, essendo la dimensione della città metropolitana, si è prestata a rendere disponibile la piattaforma anche per i comuni che ci compongono. Quindi anche nel nostro caso ospitiamo le consultazioni delle altre amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda efficacia e accountability, ti ricordiamo che tra le raccomandazioni UE vi è la richiesta di coinvolgere i cittadini e le organizzazioni della società civile a partecipare nelle diverse fasi del processo di elaborazione delle politiche. Abbiamo due consultazioni che ne sono la testimonianza. Quella relativa alla revisione del piano del cibo, in cui gli stakeholders sono chiamati a visorare una bozza del piano e a proporre integrazioni e modifiche che verranno prese in considerazione in sede di revisione, è quella relativa alla creazione del piano di invecchiamento attivo, in cui il convingimento è nella fase iniziale e permette di accogliere progettazioni e proposte che potranno influenzare il nascente piano. In entrambi i casi, le istituzioni, a fronte di un aumentato ascolto e responsabilità nei confronti degli stakeholder, migliorano la qualità e la legittimità delle politiche adottate. Il processo di coprogettazione dell'intervento delle vie d'acqua rappresenta una chiara potenza dell'efficacia di Desidim, avendo influenzato positivamente l'opera finale. Infatti, tra i contributi pervenuti, è emersa la richiesta di arricchire l'opera con la creazione di spazi d'arte viventi, che sono poi stati progettati in prossimità di alcune fermate strategiche. Desidim garantisce che gli esiti dei processi partecipativi siano resi pubblici e divulgati in maniera trasparente. Ogni fase del progetto, dalle proposte iniziali ai feedback finali, viene documentata e pubblicata sulla piattaforma. Inoltre, gli esiti relativi alle consultazioni più significative vengono comunicati tramite eventi finali, assicurando che tutte le parti interessate siano informate sui risultati e le decisioni prese. Questa pratica non solo dimostra un alto livello di accountability, ma rafforza anche la fiducia dei cittadini nel processo partecipativo, mostrando chiaramente come i loro contributi abbiano influenzato le decisioni finali. L'agenzia urbana LabMet ha tra le sue funzioni quella di promuovere la partecipazione, realizzare un osservatorio adatti e svolgere attività di ricerca. Desidim rappresenta uno strumento indispensabile per portare avanti queste attività. Al fine di far conoscere le potenzialità della piattaforma, l'agenzia ha realizzato un percorso formativo specifico rivolto ai 17 comuni e referenti degli ordini professionali. Inoltre, ha promosso tre incontri laboratoriali per stimolare e promuovere la creazione di percorsi partecipativi. A seguito di tali incontri, infatti, nella nostra piattaforma abbiamo spittato le consultazioni del comune di Sesto e del comune di Villa San Pietro. Facciamo un approfondimento sull'ultimo ambito, inclusione ed accessibilità. Allora, la natura pubblica della piattaforma la rende accessibile a tutti nella modalità informativa. Questo significa che le informazioni e i contenuti condivisi sulla piattaforma sono disponibili per chiunque abbia accesso all'internet, garantendo un'ampia diffusione e un'accessibilità delle informazioni. Per partecipare attivamente al dialogo è richiesta una tendicazione, il che aiuta a mantenere un ambiente sicuro e rispettoso, fungendo da deterrente per coloro che potrebbero cercare di disturbare o creare conflitti. Questo promuove una partecipazione più aperta e inclusiva, consentendo agli utenti di esprimere liberamente le proprie opinioni e contribuire al dialogo senza dimore di molestie o discriminazioni. Per coloro che hanno difficoltà a registrarsi alla piattaforma o su utilizzo, è possibile rivolgersi all'indirizzo email specifico per partecipare comunque alla consultazione. L'utilizzo di Decidim consente di raggiungere un target meno istituzionalizzato rispetto agli incontri presenza. Questo significa che la piattaforma può attrarre una varietà di partecipanti provenienti da diverse sfere della società, favorendo la diversità di prospettive e esperienze nel dialogo e nella presa di decisioni. Uno spazio di dialogo aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 favorisce sicuramente l'accessibilità consentendo agli utenti di partecipare al dialogo in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, quindi senza vincoli di tempo o di posizione geografica. Questo è particolarmente importante per coloro che potrebbero avere orari impegnativi o limitazioni di mobilità. La piattaforma Decidim offre la possibilità di personalizzare la distribuzione dei contenuti attraverso i vari componenti e di adattare l'esperienza degli utenti alle loro esigenze e preferenze specifiche. Il fatto che Decidim sia una web app mobile friendly e che agevoli alla creazione di contenuti snackables o sia adatta a un consumo rapido ed efficiente permette di attraire anche i giovani che spesso faticano maggiormente a prendere parte ai processi partecipativi. Ho concluso. Grazie mille, Fosca. per la puntualità soprattutto con cui hai affrontato i vari spunti. Chiudiamo con il comune di Vignola l'esempio che abbiamo proposto come comune di piccole dimensioni. Elisa Quartieri responsabile dell'ufficio partecipazione del comune di Vignola che già da 4 anni svolge il bilancio partecipativo su Vignola partecipa alla propria piattaforma realizzata con Decidim. La parola chiedo a Fosca di stoppare la condivisione e la parola ad Elisa Quartieri. Buonasera a tutti e a tutte. Mi sentite? Prego Elisa, sì. Benissimo. Vi ringrazio tantissimo per l'opportunità che ci avete dato di partecipare a questo momento di scambi di confronto con altre realtà nazionali che utilizzano la piattaforma Decidim perché è sempre stimolante il confronto con gli altri e vedere come ognuno tematizza e personalizza la piattaforma sul proprio territorio. Vignola è un comune in provincia di Modena che ha 26.000 abitanti quindi rispetto alle realtà che mi hanno preceduto è una realtà insomma molto più piccola però che sostiene da anni e crede da anni al tema della partecipazione e del coinvolgimento attivo dei cittadini. Questo come diceva prima come dicevano prima i colleghi di Milano annunziata Eugenio nell'ottica di un quadro di riferimento normativo esistente e forte. Noi abbiamo uno statuto comunale e un regolamento degli istituti di partecipazione che prevedono una serie di strumenti di partecipazione civica che vanno dai più tradizionali a strumenti più innovativi e stimolanti per i cittadini. L'introduzione della piattaforma Delsidim è stata collegata a uno di questi strumenti che come diceva appunto Michele nella presentazione è il bilancio partecipativo. Noi abbiamo iniziato ad utilizzare e a sperimentare il bilancio partecipativo nel 2021 che è stato un anno particolarmente difficile in cui parlare di partecipazione di coinvolgimento dei cittadini non era molto facile perché come sappiamo tutti abbiamo vissuto il periodo dell'epidemia da covid e quindi Delsidim ci ha aiutato tantissimo in questo perché Vignola non si è voluta fermare ma ha voluto continuare a mantenere un rapporto costante e forte con i suoi cittadini e la piattaforma ci ha consentito di avvicinarli alla governance centrale e alle decisioni che in quel periodo l'amministrazione si trovava a prendere e questo colmando anche delle lacune proprio nell'accesso agli strumenti digitali di partecipazione civica perché magari è stata l'opportunità per molti di partecipare attivamente anche se non si era esperto esperti nell'utilizzo di attrezzatore e strumenti digitali condivido un attimo lo schermo per appunto condividere con voi le parole chiave che gli esperti di Forma SPA hanno individuato nella presentazione delle linee guide delle raccomandazioni dell'Unione Europea 8627 innanzitutto in termini di trasparenza informazione la piattaforma del SIDIM per noi è assolutamente utile nell'individuare quelle che sono gli obiettivi le azioni e le fasi del percorso partecipativo come potete vedere questa è la sezione della piattaforma del bilancio partecipativo dedicata alle fasi del processo quindi i cittadini sono informati fin dall'inizio del processo di tutti i diversi step procedurali quindi dalla fase di preparazione e condivisione alla fase di raccolta delle proposte alla fase di valutazione tecnica e progettazione e adesso vedete evidenziato perché proprio il percorso è in corso alla fase di promozione dei progetti al voto per arrivare alla fase vera e propria di votazione presentazione dei risultati e poi l'elemento innovativo che abbiamo introdotto quest'anno la progettazione dei patti di collaborazione ma questa è una specifica che poi magari descrivo un attimo più tardi perché ci tenevo a porre l'attenzione a questa fase che è la fase del monitoraggio della realizzazione dei progetti quindi Decidim ci aiuta anche a non fermarci nel momento in cui il percorso partecipativo si conclude e quindi il coinvolgimento attivo dei cittadini diciamo entra in stand by ma ci aiuta anche ad accompagnarci in quello che è il processo di definizione e approfondimento dell'attuazione dei progetti finanziati con il bilancio partecipativo i cittadini vanno a incidere su proposte per l'amministrazione comunale e il comune da parte sua destina delle risorse per l'attuazione di questi progetti attraverso dei SIDIM abbiamo l'opportunità di far sì che le proposte più votate dai cittadini vengano poi pubblicate sulla piattaforma e quindi dando una risposta in termini di informazione sul processo però una volta votate i cittadini possono poi seguire la sezione dedicata al monitoraggio in cui è possibile vedere come questi progetti vengono attuati quindi abbiamo suddiviso questa fase perché appunto la piattaforma può essere personalizzata a seconda del processo partecipativo e a seconda dell'utilizzatore e noi per quanto riguarda la sezione del monitoraggio abbiamo suddiviso quattro sezioni una prima sezione dedicata all'avvio quindi una volta votata la proposta sulla piattaforma e quindi è entrata in fase che o o l'indici o o o o o o o o o Grazie a tutti. Credevo di essere io, scusatemi. No, no, pure io per un istante ho avuto questa impressione, poi ho letto la chat, grazie a chi l'ha scritta, e mi sa che aveva avuto un problema di connessione, non so se riusciamo a... Forse è tornata adesso, è tornata. Cioè Elisa, ci vedi, ci senti? Noi non ti sentiamo perché il microfono è chiuso. Sei muto perché Elisa, forse in basso a sinistra per disattivarlo. Ok, secondo me c'è stato un problema di linea e quindi vi avevo momentaneamente perso. Sei sparita per un attimo. Ok. Scusami, andando un po' verso la conclusione, ti chiederei se puoi raccontarci bene come, riguardo all'inclusione, tutte le modalità che il comune mette a disposizione, che sono diverse, per consentire a diversi tipi di cittadini e in vari modi di partecipare e di poter prendere parte attivamente ai percorsi e al percorso. Sì, praticamente il comune di Vignola ha inteso coinvolgere i cittadini nella fase di voto in modalità ibrida. Quindi sia attraverso la possibilità di votare i progetti online sulla piattaforma dei CDIM, sia attraverso modalità offline e quindi allestendo sul territorio delle vere e proprie postazioni di voto cartaceo. In questo modo si è cercato di includere maggiormente tutti i diversi target di popolazione, le persone più avvezze a utilizzare gli strumenti digitali e quindi la piattaforma in sé per sé, che quest'anno è stata implementata di un'ulteriore funzione, che è quella di poter essere accessibile attraverso Speed, CE e CNS, mentre fine l'anno scorso la piattaforma non aveva questa funzionalità. Inoltre ci sono proprio, e partiranno dalla prossima settimana perché come diceva Giulia nella parte iniziale dell'incontro, il percorso è proprio in atto in questo periodo, le postazioni di voto cartaceo verranno organizzate sia in punti fissi, quindi presso un ufficio dell'amministrazione comunale, sia andando proprio incontro ai cittadini, quindi uscendo e andando nelle zone più periferiche. Quindi vengono organizzate postazioni nei parchi comunali, presso il mercato settimanale, presso altre postazioni decentrate. In questo modo abbiamo cercato di arrivare anche a un target a cui teniamo particolarmente, che sono le giovani generazioni. E quindi insomma nel patto di partecipazione del progetto abbiamo incluso anche due istituti superiori e abbiamo coinvolto nella fase di voto sia online che offline anche i ragazzi andando nelle postazioni vicine alle scuole, ma ovviamente assecondando le loro potenzialità digitali utilizzando direttamente la piattaforma. Aggiungo solo quest'ultimo elemento, due secondi due. Il percorso partecipativo grazie ad Essidim è accessibile sia alle persone che risiedono a Vignola, ma anche ai siti user, quindi alle persone che non risiedono a Vignola, ma a Vignola svolgono un'attività di lavoro, di studio, di volontariato. E il percorso è accessibile anche ai ragazzi dai 16 anni in su. Quindi anche questo penso che sia un punto importante nel venire incontro alle linee guida proposte dalla Commissione Europea di avvicinare i giovani ai percorsi partecipativi e soprattutto alla partecipazione attiva. Questo insomma è stato accettato anche volentieri dalle scuole, dagli insegnanti, dagli dirigenti scolastici come percorsi di educazione civica e quindi di avvicinamento dei giovani alle scelte della propria comunità locale. Grazie. Grazie Lisa per questa bellissima panoramica e soprattutto per aver portato la voce di un ente locale di dimensioni non grandi che però insomma poi l'Italia è fatta di 8.000 comuni, molti dei quali sono piccolini e quindi la partecipazione si deve fare sicuramente anche online, soprattutto a partire da territori anche diciamo di provincia. Grazie a tutti, a tutte le persone che sono intervenute. Io lascerai la parola al collega Fedele per un riassunto, per un riepilogo di quanto detto. Grazie. Non so se sei già pronto Fedele. Sì, sì, sono pronto, grazie a tutti i nostri testimoni per aver, come dire, testimoniato il senso di applicazione sul campo di quanto abbiamo detto. Allora, abbiamo provato qui ad ascoltare in tempo reale tutto ciò che giungeva rispetto a trasparenza, informazione, a contability e inclusione proprio appunto dentro il... Allora, vedo un... ecco, vado in presentazione così è molto più visibile da vicino, speriamo. Ecco, questo è il punto della lavagna che racconta per colonne le varie posizioni. Abbiamo una colonna nazionale, poi RER, il Comune di Milano, la città metropolitana di Cagliari e infine Vignola. Quindi sono evidenziati gli elementi ricorrenti quindi la chiarezza sin dalla progettazione della scala nazionale e qui stiamo nella regione, nella RER il tema dello sportello unico e del livello unico quindi che agisce sul campo della... sempre della trasparenza. Io andando in orizzontale vedo il Comune di Milano che agisce identificando il regolamento della partecipazione come nucleo fondante e la riflessione sul pluralismo per l'accreditamento della partecipazione. Cagliari, città metropolitana che ritrova una piattaforma ideale ricorre, 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 richiamando gli elementi essenziali di Desidim e il linguaggio, l'adattamento del linguaggio anche qui è richiamato come fondamentale innesco dell'attivazione. E ancora l'esperienza di Vignola insegna come il regolamento sia fondamentale, la tradizione dell'amministrazione è fondamentale così come è fondamentale il senso delle procedure chiare con l'identificazione di obiettivi azioni. Poi c'è tutto il secondo tema dell'efficacia, dell'accountability che attraversandolo in orizzontale vede l'esperienza di Regione Emilia-Romagna sul tema dei processi territoriali che sono agiti attraverso la piattaforma e l'importanza dell'incontro della dimensione collettiva della formazione. E qui ancora il Comune di Milano ha ricordato il tema del quadro normativo di Milano che ha sposato la partecipazione a livello alto, quindi c'è tutto il tema dell'esperienza prototipale come condizione di controllo che si può poi trasferire altrove idealmente verso i patti di partecipazione come elemento incadinante. Il coinvolgimento richiamato dalla città metropolitana di Cagliari del coinvolgimento sin dalla fase iniziale e l'influenza sull'opera finale che ovviamente è un elemento fondamentale nella sua percezione e infine a Vignola monitoraggio e gestione la progettazione dei patti di collaborazione l'attuazione finanziato e l'esperienza importante del lockdown. E così infine giù nel campo dell'inclusione qui RER ricorda la dimensione della modalità ibrida per interconnettere possibilità. L'abbiamo ritrovata anche come tema ricorrente questo infatti come dire l'agire e andare verso significa anche aprire agli usi quindi c'è il tema dello speed non ancora il tutto inclusivo alla scala di Milano i processi aperti anche Sitiut vediamo che questo tema c'ha un arco qui che ci porta fino alla fine sostanzialmente a Vignola ecco mi sembra ma passando attraverso l'esperienza che ci ha raccontato Cagliari dove c'è questo tema del dialogo del dialogo H24 della piattaforma ma anche ricorda questa l'importanza dei percorsi formativi e infine ritorna ecco qui il la City User andare verso le persone e agire nel convolgimento con la modalità ibrida quindi sostanzialmente un panorama fortemente interconnesso che sarebbe come dire interessante riconnettere poi ai temi della raccomandazione a trovare tutti gli elementi della raccomandazione che sono richiamati come se fosse una risonanza ma sostanzialmente direi che questo è un panorama significativo che dà tutta una serie di addentellati e che promette come dire proprio una piena rispondenza all'idea dell'interscalarità del fatto che le comunità piccole o grandi forse sono unite a questo grande desiderio interconnettere solidarizzare delle persone nell'attuazione reale delle politiche che che i processi decisionali siano effettivamente inclusivi quindi grazie per questo ascolto che mi avete offerto grazie fedele probabilmente possiamo chiudere qui perché siamo un po' in ritardo rispetto ai tempi previsti scusateci se non dedichiamo uno spazio al dibattito ma appunto ci sembra importante anche non dilungarci troppo d'altro canto i temi la polpa era molto succosa e insomma c'era bisogno di tanto spazio anche per gli interventi principali su eventi.pa sulla pagina dell'evento su eventi.pa ritroverete i materiali con le slide insomma tutti i materiali che sono stati condivisi durante questo webinar vi invitiamo è stato condiviso anche in chat per rimanere in contatto con noi a partecipare attivamente alla nostra area di lavoro tecnologie digitali a supporto della partecipazione del Lab nazionale della partecipazione per appunto per appunto riprendere il discorso e portarlo avanti non so se qualcuno dei colleghi vuole fare un ultimo saluto io mi unisco ai saluti ringraziamenti volevo specificare siccome ci sono diversi commenti in chat che richiedono il link l'abbiamo probabilmente già scritto comunque daremo evidenza ai link magari pubblicando un documento dedicato su eventi.pa ma soprattutto faremo una riporteremo i materiali anche sullo spazio di lavoro area tecnologia per la partecipazione quindi se vi affacciate lì magari potete ritrovare un po' delle cose che sono state dette oggi e poi insomma proporre anche altre attività noi continuiamo ad andare avanti comunque con l'animazione di quest'area di lavoro e a proporre attività analoga a questa che abbiamo fatto oggi grazie a tutti e scusate per essere andati un po' lunghi insomma c'erano tante cose e non siamo riusciti a stare esattamente nei tempi che avevamo previsto grazie grazie a voi per la prima occasione grazie a tutti grazie grazie